Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.News trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.News can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus, and more. Visit apple.com for details and to send Apple gift cards to your friends and family this holiday season. Brooks Running has a new shoe-free runners out there. Did you hear that? Better turn up your volume. In fact, turn it up to the max. Introducing the all-new Ghost Max. It's got all kinds of things to make your knees and ankles feel protected. Like Max Cushion, Max Soft Landings with DNA Loft V2 Foam and Max Smooth Rides with their Glide Roll Rocker. Feel better on your run with Ghost Max. Learn more at brooksrunning.com Questa ragazza ha 30 anni che pesano come fossero 50-60 perché l'età in qualche modo si percepisce molto più pesante quando nella vita sono tante le facciate che estremizziamo e quindi se siamo tanto buoni poi diventiamo tanto cattivi al ritorno una redenzione alla volta la crescita è grande perché grande è lo smarrimento grande è il raggiungimento di una consapevolezza questo è il vero concetto per questo lei ha 30 anni si può permettere con credibilità di fare un brano in cui dice ero semplicemente giovane ma perché? 30 anni che cosa sei? si potrebbe rispondere e io sono qui a difendere la sua il suo poter dire questa frase non che ne abbia bisogno ma il pezzo è bello il pezzo è leggerissimo è accarezzato è come se lei stesse dicendo alla se stessa bambina ti perdono ed esce in questa fase dell'anno in cui ragazzi il mercato in Italia è ufficialmente morto settimana scorsa era smarrito adesso è morto, defunto da un mese non esce più un cazzo ma nelle altre parti del mondo c'è chi decide di far uscire invece una canzone così significativa per chi l'ha composta ci sono altri artisti sempre internazionali che hanno lasciato delle release interessantissime questa settimana la Cyrus difende come io ho difeso lei il diritto di sbagliare e mi viene da dire sotto testo di questa canzone un giovane ha diritto a sbagliare perché ha il dovere di capire tutte le critiche che si è sollevata questa ragazza in certi momenti le ricordiamo? no io non ricordo molto cioè ricordo che insomma era un po' considerata una poco di buona a un certo punto ma tutto il mondo era lì a cantare Flowers le sue canzoni sono streammatissime e con questa canzone dimostra una maturità importante è un brano pop manteniamo sempre cioè teniamo sempre a mente il fatto che quando ti rivolgi a tante persone cambiano le regole se hai una ragazza che magari io posso conoscere vuoi lanciare un prodotto indipendente con questo brano con questo testo non so se magari verrebbe apprezzato dall'underground però senza dubbio questa è una canzone mainstream che però potrebbe cantare chiunque questo è il concetto è una versione 2.0 di Living Young Wild and Free magari no no è come un'ombra di una traccia del genere e l'estremo opposto invece sono così vicine mi ha fatto ricordare questa cosa immaginiamo Snoop Dogg che espone questo concetto un trip mio comunque io devo dire che la reputora migliore uscita della settimana è dell'unica forse che mi ha messo in bocca qualcosa da dire perché veramente non è che io mi senta così pieno di cose da dire ultimamente soprattutto quando si parla comunque di musica sono tante le cose che vivo dentro io ho sempre ho cercato di rendervi partecipe partecipi di tante cose di me però adesso me ne sto tenendo molto sul privato e quindi diciamo che quella creatività che derivava dal dal mio vissuto presente insomma vado a togliere la musica sta uscendo poco film che mi fanno venire voglia di parlare di loro ne sto vedendo pochi e in più non voglio essere banale quindi è veramente difficile in questo momento anche per me fare contenuti ci volevo diciamo volevo volevo dire però la società non mi aiuta non mi aiuta affatto e non vi nascondo che è un momento difficile del monologato un momento molto difficile appunto gli stream quindi non è un momento facile quindi è anche difficile per me mettermi al microfono lo dico proprio chiaramente tre anni che tutti i giorni faccio episodi praticamente tre anni che questo microfono è la mia costante io non vorrei mai separarmene ma vorrei dargli dignità ogni volta vorrei mettermi qui veramente solo quando so di poter dare qualcosa di utile ma poi ci ragiono di cosa stiamo parlando cioè a volte uno viene qui perché ha bisogno di leggerezza a volte uno viene qui perché ha bisogno di combattere a volte uno viene qui perché ha bisogno di essere consolato ognuno viene in questo posto viene in un podcast in un album per qualche motivo e qualunque scelta faccio potrebbe rendere scontenti tutti questo è il concetto questa è un'altra cosa complessa quando hai fatto più di duemila episodi e per questo è facile quando faccio le canzoni e devo dire solo quello che penso tornerò agguerrito datemi qualcosa l'abbrace datemi un non so un'uscita settimanale di qualche personaggio datemi un freestyle di sciva su youtube e faccio dieci minuti di delirio vabbè scherzi a parte era un modo per aggiornarvi e questo mio questo mio intimizzare rendere partecipe voi dei miei pensieri non si distacca completamente dal brano cioè io ascoltando questo brano ho sentito l'esigenza di fare questo episodio e dire queste cose all'interno di questo episodio e questo è il concetto perché se poi dobbiamo parlare del fatto che questo è un concetto che mi è chiaro quello della canzone sì io anche mi sento trent'anni sul groppone come se fossero duemila per mille motivi mi ricordo benissimo quanto mi sono sentito sbagliato nella vita quanti errori ho commesso e quanti invece quanti errori giusti e non mi sento di dover dire oh scusate ero solo giovane è andata bene così non devo chiedere scusa a nessuno va bene è proprio perché fa parte di un qualcosa e ci vuole maturità ma Elisarius probabilmente a differenza mia si è esposta così tanto che ancora c'è un po' di risentimento io alla fine le mie cazzate sono nascoste nelle memorie brevi di qualche persona mentre le sue sono pubbliche per tutta la vita quindi giustamente ha una percezione differente però è questa roba non dobbiamo sentirci sbagliati dei nostri errori siamo solo giovani sbagliamo commettiamo l'errore commettiamo le due andiamo fino in fondo se necessario non è un problema e purtroppo tenendo mantenendo cercando di sopprimere non si va da nessuna parte ma ragazzi quello che proviamo quello che siamo poi torna a trovarci comunque non è la scappatella di una vita no non è l'errore di una vita a mettere in discussione gli ideali di sempre sì l'ho detta male non è era l'ho detto già lei non è la scappata di una notte a mettere in discussione l'amore di una vita io volevo dire che non è la scelta non è l'errore di una di una volta di due volte dieci volte a mettere in discussione gli ideali di una vita no a volte bisogna essere un po' anche contro noi stessi per capire veramente fino a che punto siamo d'accordo con quelli che siamo e quindi insomma mi lascio in qualche modo anche cullare da questo brano così leggero di un personaggio così pesante ma non di impatto sociale pesante perché c'è il dolore di questa persona in queste consapevolezze quello che ci piace monologato one love l'eleganza incontra la tecnologia lancia y da oggi nei nuovi allestimenti oro platino ed ecocic gpl partono gli incentivi lancia gamma y hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione e dopo un anno puoi tenerla o sostituirla anticipo 1600 euro 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro tan zero tag 381 offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 dicembre Grazie a tutti